Una manifestazione e un convegno medico e dopo il buon successo di partecipanti anche un'opera buona. Stiamo parlando della HB Run, Urban Trail aperta a tutti con formula collodata, nata in provincia di Savona e per la prima volta proposta nella Riviera dei Fiori il 30 ottobre scorso a Sanremo. La raccolta fondi avvenuta in occasione dell'appuntamento è servita a comprare un defibrillatore donato oggi in comune alla Croce Rossa di Sanremo come confermatoci dal consigliere comunale Paolo Masselli, tra l'altro uno dei sostenitori e organizzatori della manifestazione. Noi siamo contenti su tutta la linea per com'è andata questa faccenda, sin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a pensare di copiare il format, quindi dalla gara che già organizzavano su Pietra, si è dimostrato, devo dire, tutto molto complesso ma tutto molto in disceso. Io ogni volta che parlavo di gara di corsa per beneficenza ho trovato tutte le porte spalancate, tanti sponsor qua in comune, dai vigili alle organizzazioni sportive che ci hanno aiutato, la Pro San Pietro, piuttosto che veramente sono molto soddisfatto di quanta collaborazione ho trovato nell'organizzazione di questo evento. È andato tutto bene perché la corsa per fortuna quando è partita non ha trovato in toppi, i partecipanti si sono divertiti, abbiamo avuto dei feedback eccezionali, di gente che corre molto anche a livelli importanti, ci dicono che bel percorso, che bella manifestazione, siamo felici, rifatela, quindi questo ci stimola molto a riorganizzarla anche quest'anno e andare avanti e poi siamo riusciti a mantenere la promessa, quindi a regalare un defibrillatore a Sanremo che come dicevo prima speriamo che non serva mai ma a meno male che c'è. La gioia nel ricevere in dono il defibrillatore da parte del Presidente della Croce Rossa di Sanremo, Ettore Guazzoni. Questa è un'iniziativa di cui ho avuto notizia tramite il consigliere Masselli a cui abbiamo dato una mano, nel senso che nel momento in cui è stata organizzata la manifestazione abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi e i nostri volontari o dipendenti affinché tutto procedesse nel miglior modo possibile durante la manifestazione e poi gradita sorpresa pochi giorni dopo è stata quella di sapere che sempre grazie al consigliere Masselli e a tutto l'entourage della manifestazione, con il ricavato avrebbero acquistato un DAI, un defibrillatore che sarebbe andato donato al comitato di Sanremo che rappresento. Per noi è sicuramente un motivo di grande orgoglio, un motivo di vanto, è uno stimolo per proseguire in tutte quelle attività che continuiamo a fare sul territorio e soprattutto è uno strumento che ci permetterà di allestire un nuovo mezzo che abbiamo acquistato un paio di mesi fa e ci verrà consegnato verso la fine di marzo. Mezzo che sarà allestito con tutte le dotazioni di rianimazione e quindi elemento indispensabile anche il DAI per gli operatori. Quindi grazie davvero a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa donazione e speriamo che il loro evento possa avere non tanto per Croce Rossa, perché noi siamo già stati graziati da una donazione importante, ma che questo evento possa avere un successo sempre più importante per aiutare altre realtà sul territorio.